La situazione Covid torna a creare molta apprezzione nel territorio nazionale, quindi anche nel mezzogiorno, nella nostra regione Campania, dove dovrebbe essere più incisivo il governo? Bisogna sicuramente andare avanti con una forte e convinta vaccinazione, convincendo anche quelle persone che fino ad oggi non hanno ritenuto vaccinarsi. Bisogna dunque procedere con una vaccinazione ad ampio raggio anche per altre categorie che possono essere particolarmente esposte ai contagi. Bisogna ovviamente puntare anche sui controlli perché è necessario ovviamente per non vanificare questo tipo di iniziative. In particolare per quanto riguarda il mondo scolastico e il mondo dei trasporti è fondamentale adottare tutta una serie di misure che possano prevenire i contagi. In particolare la reazione dei locali, particolarmente per quanto riguarda gli ambienti scolastici, ed i mezzi di trasporto che continuano purtroppo ad essere una di quelle situazioni nelle quali purtroppo il contagio continua ad alimentarsi. Controlli anche da parte delle forze dell'ordine perché purtroppo spesso capitano che beccano positivi per strada che sapevano di essere positivi. Sicuramente ci sono delle normative vigenti che vanno rispettate per cui i controlli sono fondamentali. Però bisogna anche sottolineare che c'è un forte caos e anche dal punto di vista comunicativo non c'è una totale chiarezza. Per cui ovviamente questa situazione ha generato anche nei cittadini una difficile comprensione delle normative in essere e quindi ovviamente questo può creare anche problematiche di persone che possono andare in giro però senza avere una piena consapevolezza di quelli che dovrebbero essere i comportamenti da adottare. Da Conte a Draghi serve maggiore incisività e chiarezza? Sicuramente serve una maggiore incisività, bisogna procedere sicuramente sulla via della vaccinazione, bisogna stare vicino a tutte le attività economiche che hanno subito particolari danni da questa pandemia. Bisogna quindi uscire definitivamente da questa problematica e fare in modo finalmente che l'Italia possa riprendere il proprio percorso di rinascita economica e anche di una piena libertà ed espressione di quelli che sono i principi fondamentali della nostra democrazia.